Perfetto, sono finalmente tornato nel mio mondo, un'altra riunione è andata bene, speriamo che questa volta nessuno ci, cioè in realtà nessuno mi ha mai cercato di uccidere quando sono tornato, dopo essere tornato da una riunione dei lollosi, però cioè dai, sempre meglio, sempre meglio che non venga mai nessuno. Cioè, insomma, chi dovrebbe venire? Cioè, io non ho nessuno che mi odia, no? Scendere da questo pubblico, e qui dovrei? Cioè, no, ma è con sonno. Ora vabbè. Perfetto, ce l'ho fatta, ma non so se potresti fare direttamente da sonno finabile a te. Penso che avranno i primi campi, sono sofisticati, quindi penso che ti vado a preparare nell'esercito matronico. Ma non tanto, non è già preparato. Ah, non lo so, stiamo arrivando. Allora, facciamo una cosa. Il vostro palpito sarà di rimanere i fiori qui, fino a quando è appena arriva, cacciati fuori le spalle. Capito? Esatto, Foxy. Non c'era bisogno di superbomb. Qualcuno ha capito che hai detto? No, Bonny, non l'ha capito nessuno, lo sappi, no? Sì, 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 Bonny, nessuno ha capito nulla, nessuno sa nulla, quindi è vita felice. Vabbè, possiamo iniziare la lezione? Una scusa. C'è questa osservazione? Sì, possiamo iniziare e... Ecco, ecco lo, lo sto levando, lo sto levando, mi do lascolgo. Quel cubo non l'avevo mai visto. E comunque la Fatina Pro Master deve ancora arrivare Quindi non so manco perché A Golden Freezer Così mi appare che si chiamava Mi ha detto che Gli ho detto che era con noi Perché la Fatina Pro Master deve ancora venire Cioè stranamente Non è Cosa sono quelli Ai Cosa dove Cosa Perché sto volando Ma quello lì è uno Shulker Prima non c'era lì Vabbè ora lo Shulker è scomparso Cosa sono quelli lì Devo andare a vedere Vado a vedere cosa sono Sochetto in avvicinamento Inizio da pollo Uno strano macchinario Fatto di calderoni Forse questa è una cosa per raccogliere L'acqua e per evitare Di danneggiare I loro circuiti E a quanto pare Sono anche armati però Ehi Cos'è quello lì Io se vado A vedere però O no Foxy mi ha visto Splendetrap è caduto Nell'acqua Calmi 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 Senza È vero Splendetrap è l'acqua Ma va bene Fa niente Puppet Io ti ucciderò Boom boom No 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 Ti sei preso la mia Spada Sono degli armor stand Buono l'endoscere troppo poco rinforzato Bonny È il tuo turno Troppo tardi Bleh Bonny Quasi Bonny Ha l'endoscere un po' troppo rinforzato Ma Bonny Ho sempre la spada del Puppet Non pensai di trollarmi così facilmente Ora eccola qua Ora ce l'ho di nuovo io Sai cosa? Tutta la maschera me la tengo io Anzi Non me la metto Foxy È il tuo turno Già un po' tardi Come mai si è ancora sentita la sua voce? Strano Vabbè Cica Penso che sia solo Bonny Quello difficile Tutti gli altri Sembrano abbastanza facili Non ho una cosa Freddy È troppo tardi ormai È rimasto solo spring Trappa E i spring Spring Trappi Sono qui Dici le tue ultime parole Oh no 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 Per favore No 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 Ah 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 Troppo tardi Ah 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 troppo tardi Ormai anche la tua maschera è il mio possedimento Penso Ma non ho l'ho inventato pieno I tuoi lesti le staranno qua Spring Anche se potrei fare Qui Qui metto tutte le teste E tutte le vostre E tutti i vostri Le vostre tute me le tengo Non si sa mai che Ci voglio fare uno scherzo A Ender Che Ender ci cascano in questi scherzi Ma chi è che vi ha mandato Questi animatronic Qui Chi sarà mai stato Chi sarà mai stato A mandarli qui Chi sta parlando Dove sei Dove Sei Sei Cosa Cosa No No Mi fai Quindi devo fare il ricalcolo della situazione Lascia un attimo Un clou Una mia versione .exe Permanente da un altro universo Fa Ha le stesse cose mie Nell'inventario E ha creato degli animatronic Per Disfruggermi Quindi Come potrei batterlo Io Non ti preoccupare Cosa Chi ha parlato Non lo so Punto exe Io posso rimanere qui Solo per poco Ma Io Ti dico Che mi distingue Mi piace non averti invitato Alla riunione E che Non ti consideravo Come un lolloso Ma Avendo visto la tua reazione Alla prossima Ti inviterò Ora Devo tornare Nella mia Dimensione Quindi Che ti posso dire Se non Fate pace Ok Beh Non lo so Punto exe Così detto Di chiamarti Che ne ti esti Di Non lo so Accettare Quello che ha detto Fiero pecco E fare Pace Cosa 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 mi dice Cosa Perchè Non sono Non lo so Non venire Non lo so 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 Sicuro che nessuno lo scomirà mai, solo un genio. Eh? Dove sono? Aspetta. Ma sono nel robot, nell'animatronic strano che avevo costruito. Forse quelle leggende che narrano che quando uno muore, se c'è un animatronic nelle vincinanze, ci entra all'interno, erano vere. Perché adesso io sono un animatronic. Sono diventato un animatronic. Quindi abbiamo fatto bene a costruirlo. Devo subito chiamare... Devo subito chiamare... Ender... Ma vabbè, Tartoli non mi risponde mai alle chiamate perché oggi dovrebbe rispondermi. Quindi... Ehi Tartoli! Aspetta, questo è una tartaruga. Non avevo mai visto una tartaruga da queste parti. No, aspetta. No, no, no. Non devo entrare in acqua perché mi danno i geni circolini. Non so perché qui c'è una L. Una strana L. Ma comunque... Dove... Dove sarà... C'è un cavallo? No. Dove sarà finito... Dove sarà finito quello Loso.exe? Soprattutto. Ora, come lo dico agli altri che sono diventato un animatronic? Dico...